Siamo sullo Zoncolan in compagnia di Christoph Inerhofer, una delle ultime sciate della stagione, poi un po' di vacanza? Sì, purtroppo uno degli ultimi allenamenti, gli ultimi giorni di sci, fa veramente male il cuore vedendo ancora tutta sta neve, anche se adesso con il caldo le condizioni sono un po' difficili. Allora Iner, una stagione questa che è stata quella del tuo rientro a tempo pieno, l'anno precedente si è rientrato un po' a sprazzi dopo l'infortunio, che voto dai a questa stagione che si è appena conclusa? Io non sono contento perché so che potevo fare meglio, so che posso fare meglio, devo dire che non ero tanto fortunato questa stagione. Dal primo giorno di sci fino alla gara di Bormio ho avuto un problema di scarpa che non ho saputo, l'ho saputo proprio dopo le gare di Bormio, perché lì ho detto c'è qualcosa che non va, perché non era possibile che faccio così fatica. Sulle curve, poi purtroppo ho avuto il Covid, poi io sono rientrato, ho fatto anche belle gare, quarto, quarto, kids bull, quinto, quinto, sesto e mondiali, ma comunque poi ai mondiali ero senza Schemen, che il mio Schemen ha preso il Covid, quindi dico, fa problemi con la scarpa, io Covid, Schemen Covid e purtroppo non era il massimo. Io so che posso fare meglio, quindi quello è il mio obiettivo, io so che posso ancora vincere e quello sarà l'obiettivo per l'anno prossimo. Infatti prossima stagione tu sei un uomo da grandi appuntamenti, ci spera che questo Covid, queste pandemie non vengano più ad inficciare su questo, quindi stai già lavorando per la prossima stagione? Sì, ho lavorato tanto, esodo questa primavera, ho fatto tanto slalom e gigante, ho fatto già 20 giorni di sci, con i sci più corti e quello mi serve. Soprattutto uno più di vecchio diventa, più importante è tenersi in forma tecnicamente, poi a me piace sciare, a me piace allenarmi sempre, anche con i sci più corti, anche se tribolo molto di più, e niente, quindi speriamo che viene pagato un po' sto impegno che ci metto, che ci metto sempre volentieri. Era da tanto tempo che non venivi qua sullo Zoncolano ad allenarti, come hai trovato questa pista? Siamo a fine aprile e c'è ancora tanta neve. Sì, da tanti anni che non sono più venuto, ho proprio raccontato che quando avevo 16, 18, 20 anni sono venuto qua sempre per fare la gara FIS, poi siamo venuti meno una volta prima di preparare Kanskagora quando ho fatto il gigante, sempre una bellissima pista, ripeto, tantissima neve, anche se le condizioni adesso sono un po' difficili, sai, fa veramente caldo, poi il sale tira un po', ma non troppo. Però fa bene, io soprattutto che faccio fatica a sciare quando sento meno gli sci, qua proprio li senti poco a poco, quindi bisogna essere ancora più sopra, che poi è proprio quello che mi serve anche nelle discipline veloci, usare tutti i due i piedi. Certo, poi questa è una pista che porta fortuna, Marta Bassino si è allenata qua prima dei mondiali ed è arrivato un grande risultato, magari si conclude la grande della stagione per iniziare alla grande della prossima. Ma sì, quello è sempre l'obiettivo, l'obiettivo è fare bene, cercare di fare il meglio possibile e poi quando metterò i sci in cantina poco di riposo e poi ripartirò sulla bici, quindi anche quello è una mia grande passione. Sai che qua arriverà il Giro d'Italia, tra poco. Sì, però lì non gareggerò purtroppo, anche se mi avrebbe sempre baciuto diventare un ciclista, quindi pedalo un po' per me in compagnia con gli amici, però sicuramente per voi è un grande appuntamento qua con il Giro d'Italia, sicuramente sarà una bella tappa. E allora grazie e in bocca al lupo per le vacanze intanto e per la prossima stagione. Grazie Creppi, ciao a tutti.